Roma-Lecce 2 a 1. La Roma si impone 2 a 1 su Lecce in 10 per tre quarti di gara, ma battagliero è determinato. Avvio al berbante dei giallorossi. Sbloccano al sesto minuto con Smalling. Al 22esimo. Rosso a Julen per un fallo su Belotti. La Roma non sfrutta l'ok in più subendo il pari di freddezza al 39esimo. Grande occasione per Zalewski e Zagnolo. Rompono l'equilibrio su un rigore di Dybala. A 48esimo. Nel finale Falcone fa negare il gol ad Abraham. Vi testa da due passi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifiche e un commento. Ciao.